Eccoci ragazzi nuovo video informativo dedicato al mondo della tecnologia Apple ci avviciniamo sempre di più alla WWDC 2024 10 giugno ragazzi mancano 6 giorni oggi parleremo di una bella bombetta che è arrivata nell'ultima ore per quanto riguarda iPhone 16 soprattutto i modelli pro e un'altra cosa molto curiosa iOS 18 relativamente al centro di controllo nei giorni passati vi ho parlato di una modifica al centro di controllo che a quanto pare sarà revisionato in occasione del nuovo sistema operativo ne parleremo con nuove informazioni che ha riportato Gurman nella sua ultima newsletter power on ma come sempre prima di iniziare lasciate un bel mi piace se ancora non avete fatto ed iscrivetevi per non perdere tutti gli ultimi aggiornamenti poi vi ricordo sponsor del video Enebba ogni acquisto che farete sul canale supporterete appunto il diciamo è proprio il mio canale quindi ogni acquisto che farete sul sito avrò un supporto dai videogiochi nuovi video del passato gift card di ogni tipo steam amazon e via dicendo e se ancora non l'avete fatto iscrivete sul mio canale delle offerte dove troverete veramente tantissimi sconti uno più interessante dell'altro se poi non trovate qualcosa di interessante cliccate sui link vi servirà mazzo con la mia affiliazione cercate il prodotto lo aggiungete e anche in quel modo mi supporterete ma partiamo con queste due belle bombette parliamo dell'iPhone 16 Pro e parliamo del centro di controllo Ice 18 parliamo ovviamente prima del dispositivo hardware praticamente l'iPhone 16 Pro potrebbe battere qualsiasi tipo di record attualmente presente per quanto riguarda le cornici più sottili per il suo display ma andiamo per piccoli passi se ben vi ricordate diverso tempo fa vi avevo detto di due leaks molto importanti che sembrano sempre prendere più piede secondo cui i display dei prossimi iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max cambieranno dimensioni passando rispettivamente da 6,1 a 6,3 e ovviamente da 6,7 a 6,9 ma questa cosa e molti mi direte sì è ovvio i display diventando più grandi avremo più spazio quindi display più grandi più visualizzazione e quant'altro ebbene no ragazzi perché ne ha parlato il Leaker Ice Universe e secondo le sue informazioni non sarà soltanto un fatto legato alla grandezza di display appunto che aumenteranno ma roba al fatto che andranno a lavorare sulle cornici quindi cornici sottilissime addirittura si parla più sottili di quelle presenti sul modello Pro dell'iPhone 15 ma addirittura più se più ancora più sottili di qualsiasi altro smartphone presente parliamo ad esempio del Samsung Galaxy S24 e quindi questo permetterebbe sia con il fatto che aumenta qualche piccolo pixel ma soprattutto anche il fatto delle cornici avere un display ancora più grande da visualizzare questa cosa è molto interessante perché perché si vociferano due cose Ice Universe non ha fatto nessun riferimento al BRS mentre tanti altri ne hanno già parlato sebbene vi ricordate anche voci che arrivano dall'Asia ma anche altri rumors dell'ultime settimane parlano del fatto che Apple per poter fare questa novità e per rendere le cornici così sottili dovrebbero utilizzare questa tecnologia come ti dicevo BRS a cui Pro Ice Universe non ha fatto riferimento la BRS sarebbe per Border Reduction Structure che permette appunto layout più compatto ed efficiente dei circuiti sotto al display per rendere ovviamente le cornici ancora più sottili staremo a vedere che cosa accadrà se ben vi ricordate l'iPhone 15 Pro l'anno scorso riuscì nell'impresa di ridurre le cornici presenti nella famiglia dell'Apple per quanto riguarda il modello Pro perché utilizzarono lo stampaggio a bassa pressione quindi riuscirono con il fatto dello lo stampo a bassa pressione con l'iniezione a rendere ancora più sottili le cornici cosa che quest'anno con i modelli 16 Pro e 16 Pro Max dovrebbe essere ancora più bella aggressiva ma parliamo invece per quanto riguarda il centro di controllo perché Gurman settimana scorsa aveva detto che secondo le sue fonti il centro di controllo sarebbe cambiato in occasione di iOS 18 bene nella sua ultima newsletter Power On ha dichiarato che secondo le sue fonti il centro di controllo di iOS 18 dovrebbe avere due novità principali innanzitutto un widget musicale aggiornato e addirittura controlli migliorati per l'accesso ai dispositivi che abbiamo di casa legati appunto all'intelligence HomeKit però non ha voluto dare maggiori informazioni su questi cambiamenti e al momento queste sembrerebbero però essere due aree su cui sarebbe lavorando almeno Apple per aggiornare il suo centro di controllo in occasione di iOS 18 ricordiamo che sul mio canale youtube trovate tutte al momento le indiscrezioni relative alle mie ore di iOS 18 almeno quelle più principali dalla messaggistica all'intelligenza artificiale parliamo quasi di 20 importantissime macro modifiche iOS 18 e poi ovviamente ce ne saranno veramente tantissime piccole tutto questo ovviamente rimandato al 10 di giugno dove vedremo finalmente alla WWDC 2024 tutti i nuovi sistemi operativi da iOS 18 a Mac OS 15 e via dicendo fatemi sapere intanto che cosa ne pensate di queste due ultime notizie che sono trapelate nelle ultime ore con un commento qui sotto nel frattempo un bel mi piace iscrivetevi se ancora non l'avete fatto mi raccomando e noi ci vediamo ad un prossimo video